Fare rete e iniziare a lavorare per attuare il piano di gestione del sito UNESCO via Appia Regina Viarum dopo il riconoscimento avvenuto alla fine dello scorso mese di luglio dal comitato riunito a Nuova Deli che si è pronunciato in maniera favorevole sulla candidatura promossa dal Ministero della Cultura con il coinvolgimento di una serie di istituzioni. Con questo obiettivo si sono incontrati per la prima volta i sindaci coinvolti nel sito. L'appuntamento è avvenuto a Benevento su iniziativa del sindaco Clemente Mastella. Ha partecipato anche il ministro degli interni Matteo Piantedosi. Il progetto della via Appia sito UNESCO interessa quattro regioni Lazio, Campania, Basilicata e Puglia, 13 città metropolitane e province, 74 comuni, 14 parchi, 25 università, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra della Santa Sede. L'appia fu la prima delle grandi strade di Roma, capolavoro di ingegneria civile. Tracciata per esigenze militari dal censore Appio Claudio nel 321 a.C. per collegare Roma a Capua e successivamente estesa fino a Brindisi, l'appia divenne subito una strada di grande comunicazione commerciale e di primarie trasmissioni culturali. Fu concepita sin dall'inizio come via pubblica, percorribile gratuitamente da tutti perché realizzata su terreni espropriati allo scopo dallo Stato romano. La strada fu ampliata nel corso del tempo e il sito del patrimonio Unesco comprende anche la variante al tracciato originale fatta costruire da Traiano nel 109 d.C. È stata l'occasione per avviare una nuova strategia che allo stesso tempo sia in grado di promuovere il turismo e salvaguardare il territorio, spiega il primo cittadino di Latiano, Mino Maiorano, che ha preso parte al confronto assieme all'assessore alla cultura Monica Albano. Dall'incontro è emersa la necessità di unire le forze perché si tratta di un'occasione unica, aggiunge. Per il Comune di Brindisi il riconoscimento dell'UNESCO contribuirà alla realizzazione del dossier di candidatura a Capitale Italiana della Cultura per il 2027, assieme al ruolo di Porto di Pace offerto ai grandi della terra in occasione delle giornate del G7. Il dossier di candidatura dovrà essere presentato entro il 27 settembre, stando al bando pubblicato dal Ministero della Cultura.